L'ingegner Gianfranco Lopane è candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista con Emiliano a sostegno del governatore uscente Michele Emiliano. L'ingegner Lopane, il suo appello al voto. Perché votare Gianfranco Lopane? Intanto perché la Puglia deve continuare a guardare avanti, la Puglia deve continuare a guardare al futuro e la Puglia deve continuare a guardare un'esperienza amministrativa straordinaria del centro-sinistra pugliese che è diventata assolutamente importante a livello nazionale. In questo credo che l'esperienza di un sindaco di 10 anni di esperienza sindacale possa dare un contributo notevole a una provincia che ha bisogno di maggiore rappresentatività, di maggiore spazio e soprattutto di maggiori idee e progettualità. Per questo abbiamo deciso di affrontare questa candidatura cercando di portarci dietro un bagaglio di esperienze che mettiamo a disposizione della provincia di Taranto.